Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, diplomatico di lungo corso, è stato anche commissario europeo. Allora, ci spiega in maniera, ammesso che si possa una situazione così complessa, semplificare, che cosa sta succedendo. Cominciamo con la situazione tra Stati Uniti e Iran, che coinvolge l'Iraq. Oggi, poco fa, ho letto un'agenzia, che è abbastanza inquietante, che arriva dal Parlamento iracheno, che sapete, l'altro giorno ha chiesto che tutte le forze militari straniere lasciano il paese. Il Parlamento iraniano ha votato una mozione che inserisce l'esercito americano e il Pentagono nella lista delle organizzazioni terroristiche, intanto, e poi ha chiesto alle Nazioni Unite che appunto venga condannata, senza se e senza ma, venga condannato il raid in cui è stato ucciso dagli americani soleimani. Allora. Io parto dall'osservazione. Vedevo le immagini delle manifestazioni a Teheran e in altre città iraniane. Le possiamo continuare a vedere in diretta, mentre lei ci dà la sua versione. E mi coltiva a constatare che solo poche settimane fa quelle stesse masse, probabilmente più o meno negli stessi numeri, manifestavano contro il regime, contro il governo, per il caro prezzi, per la disoccupazione, per mille motivi di disagio che cerpeggiavano nella società iraniana. Quindi il primo effetto che ha ottenuto questa operazione di Trump e di l'uccisione di Soleimani è stato di ricompattare l'opinione pubblica iraniana a sostegno del governo contro un obiettivo molto sperimentato, molto facile, che è l'antiamericanismo. Secondo effetto, l'Iran ha definitivamente annunciato che rinuncia, sospende l'attuazione dell'accordo sul nucleare. Anche questo era probabilmente da aspettarsi, a prescindere dall'uccisione di Soleimani, certamente l'assassinio di Soleimani ha accelerato questo processo, quindi il rischio oggi che l'Iran riparta con un programma di arricchimento dell'uranio che lo porterà a potersi dotare... La bomba domica, insomma, tanto per capirci. Nel giro di un anno può avere la bomba domica. Quindi in pochi mesi fondamentalmente. Tra tre, sei mesi, un anno al massimo, l'Iran può avere la bomba domica. A meno me qualcosa non cambia nello scacchiere internazionale. Mi sembra molto difficile oggi riuscire a riportare l'Iran sulla strada di un negoziato e quindi sulla rinuncia ai programmi di arricchimento dell'uranio. Il problema è che, a prescindere dal giudizio sull'operazione, ha fatto bene, ha fatto male. C'erano dei motivi fondati? Non c'erano. Non è chiaro se Trump abbia una strategia. Anzi, a mio avviso, non c'è nessuna strategia dietro questa operazione. Non sappiamo che cosa ha come piano B, qualora l'Iran dovesse effettivamente cominciare a mobilitarsi per delle rappresaglie più o meno pesanti. Quindi siamo in una situazione di drammatica incertezza, con ripercussioni che ci riguardano anche direttamente come Paese, come Italia. Noi abbiamo alcune centinaia di militari italiani impegnati in Iraq. Dove sono impegnati i nostri militari nel mondo, soprattutto in Medio Oriente, e abbiamo peraltro in Iraq, credo, il secondo e il terzo contingente, dopo gli americani, peraltro. No, quindi voglio dire, gli elementi di incertezza sono enormi. La mossa, tutto compreso, mi sembra molto avventata, probabilmente effettivamente dettata anche da motivazioni di politica interna, di campagna elettorale. Non credo che Trump abbia calcolato tutte le implicazioni. Mi auguro che gli iraniani si comportino in maniera meno emozionale di quanto non si sia comportato il Presidente americano. Questo è un grande interrogativo, il punto di domanda vero. Cioè, quale sarà, se ci sarà e in che termini la rappresaglia iraniana? La guida spirituale Kamenei ha detto che deve essere diretta, insomma ce la dobbiamo intestare senza se e senza mai. Insomma, parole durissime e molto preoccupanti quelli della guida spirituale. Eh...